I tempi delle altre partite, Cagliari 1, Verona 0, al ventiquattresimo Marchesi che riprende un tiro di Nenè respinto dalla traversa, a Cesè, a Cagliari siamo giunti al ventisesimo, la situazione è sempre di parità, 1-1 tra Cagliari e Verona, al decimo della ripresa per il Verona pareggia Zaccarelli su passaggio.